In effetti è migliorato il rapporto debito PIL dal 155% del 2020 al 142% stimato in quest'anno. 13 punti. Quindi lei non ha nessuna critica da fare al supermercato? Ma sa perché la cosa che non si spiega è i cittadini? Ma lei se ci fosse oggi il governo lo riproporrebbe così come l'abbiamo conosciuto? Ha ragione che dice che comunque per il 2024 deve essere garantito solo per i dati di più basso. Io ho sempre detto che questa era la spinta iniziale al 110, non è che ci potevamo portare avanti questa misura, però questa misura ha generato 11% di PIL in due anni, ci ha consentito di ridurre la curva del debito perché ha fatto crescere per un euro investito nelle casse dello Stato immediatamente di tono 60 o 70 centesimi. Ma in più, dobbiamo considerare, nel medio e in lungo termine ha generato un milione di occupati, tagliato tonnellate di emissioni di CO2. Allora perché il governo si accanisce tanto contro questa notizia? Perché il governo forse vorrebbe, anziché investire sul superbono, sulla rigenerazione urbana, sull'occupazione e sugli investimenti che fanno crescere più, vorrebbe forse investire un altro investimento che si può fare e che sta facendo su armi e munizioni. Però attenzione, le armi e munizioni provocano morte. Grazie a tutti.